Una voce che trascende i confini. Incontra Vittorio Grigolo, il virtuoso operistico italiano che incanta il pubblico in italiano, inglese, francese e spagnolo. Dalle sue esibizioni mozzafiato al suo riconoscimento internazionale, il talento di Vittorio non conosce barriere linguistiche unisciti a noi mentre celebriamo la sua illustre carriera nel mondo dell'opera e il potere del multilinguismo nel campo della musica preparati ad essere affascinato da questo maestro multilingue.